L'incidente è in corso Garibaldi a Benaria Reale nella serata di martedì 12 marzo intorno alle 18.30. Una Fiat Punto che stava andando in direzione Torino ha urtato una pelastra station wagon infermata che si è ribaltata, ferito ma non in pericolo di vita il conducente quarantenne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la croce verde. La polizia locale ha chiuso la strada e il traffico è andato in tilt anche perché qualche anno dopo c'era il big match Juve Atletico. Grazie a tutti.